Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato in prima commissione il bilancio di previsione 2017 della Regione Umbria. Vediamo. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa presieduta da Andrea Smacchia ha approvato con cinque voti favorevoli PD e SER e tre contrari Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega Nord la legge di stabilità regionale 2017 e il bilancio di previsione della Regione Umbria 2017-2019. La manovra 2017, che ammonta 2 miliardi e 608 milioni di euro, arriverà in aula per il voto definitivo il 20 dicembre. Nell'illustrare la legge di stabilità, la Presidente della Giunta, Catiuscia Marini, ha sottolineato gli aspetti fondamentali della manovra di bilancio regionale, in varianza della pressione fiscale e riconferma del pacchetto di agevolazioni e sanzioni già presenti nel 2016, ulteriori razionalizzazioni sulla spesa di funzionamento, riduzione di risorse perenti e società, finanziamento degli accantonamenti obbligatori per legge, pieno utilizzo delle risorse comunitarie. Con i decreti legge del terremoto le Regioni inoltre avranno il supporto dello Stato per il cofinanziamento dei fondi comunitari. Per la spesa sanitaria i fondi previsti in bilancio ci consentono a detto Marini di affrontare la situazione con tranquillità. Prosegue il lavoro di efficientamento della macchina regionale, la spesa per il personale continua ad essere in progressiva riduzione. Importante è sottolineare poi che l'insieme delle risorse per la spesa socio-sanitaria considerando tutti i canali a disposizione sono superiori rispetto agli anni scorsi. Assistiamo più persone in maniera più estesa e con più politiche. Poi ci sono le politiche di creazione del lavoro che servono anche per combattere la povertà. In Umbria abbiamo strumenti importanti per aiutare le nostre imprese ad essere competitive. Le politiche espansive trovano risorse principalmente nei porri insieme alle misure nazionali. Lo sforzo che stiamo facendo è quello di mettere a disposizione delle aziende un pacchetto di misure integrate che colgano tutte le possibilità a livello regionale, nazionale ed europeo. La lotta alla povertà la dobbiamo raggiungere non solo con misure socio-assistenziali ma con misure che portano le persone a tornare al lavoro. Per Valerio Mancini, Lega Nord, questo bilancio non riesce ad attaccare le gravi emergenze che colpiscono l'Umbria. Per Maria Grazia Carbonari, Movimento 5 Stelle, c'è un taglio notevole alle politiche sociali che sono fondamentali, soprattutto in questo momento di estrema difficoltà. Per la maggioranza Gianfracco Chiacchieroni ha parlato di un bilancio mai così importante, uno strumento per partecipare alla ricostruzione, un lavoro che tutte le istituzioni stanno facendo per ridare un futuro all'Umbria. La prima commissione ha approvato il bilancio di previsione per il 2017 dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Il servizio. La prima commissione ha approvato il bilancio di previsione 2017 dell'Assemblea legislativa. Voto favorevole dei consiglieri del Partito Democratico, socialisti e riformisti, Forza Italia, Lega Nord, una astensione del Movimento 5 Stelle. Le risorse finanziarie sulle quali Palazzo Cesaroni potrà contare per il prossimo anno ammontano a 19 milioni 501 mila euro, costituiti principalmente dai trasferimenti operati dalla Giunta regionale, che ammontano a 18 milioni 900 mila. Per quanto concerne le uscite, queste le principali voci di spesa 8 milioni 724 mila per indennità amministratori, vitalizi e gruppi consigliari, 6 milioni 873 mila per il personale, 2 milioni 861 mila per spese di funzionamento della struttura, 681 mila quali fondi destinati al funzionamento dell'ISUC, del Centro Studi Giuridici, del Corecom e del Consiglio delle Autonomie Locali. La Presidente Porzi, nell'illustrare il documento contabile, ha sottolineato come negli ultimi anni ci sia stata una diminuzione della spesa per il funzionamento dell'Assemblea legislativa, passando dai 22 milioni 286 mila euro del 2010 ai 18 milioni 900 mila euro per il 2017. Porzi ha inoltre spiegato che la gestione del bilancio dell'Assemblea è improntato a rigorosi criteri di razionalizzazione ed efficientamento della spesa. Presentata in terza commissione una proposta di legge dei consiglieri Giacomo Leonelli e Carla Caciari del Partito Democratico, che riguarda le vaccinazioni come requisito di accesso ai servizi socioeducativi per la prima infanzia. Ce ne parla Paolo Giovagnoni. La Commissione Sanità e Servizi Sociali dell'Assemblea legislativa presieduta da Tilo Solinas ha esaminato una proposta di legge che modifica la parte relativa all'accesso ai servizi della legge sul sistema servizi socioeducativi per la prima infanzia, d'iniziativa dei consiglieri regionali del Partito Democratico Giacomo Leonelli e Carla Caciari, al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui viene a contatto, costituisce requisito di accesso al sistema integrato dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, sia pubblici che privati, l'avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. La vaccinazione sarà omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. Altre regioni si sono mosse in questa direzione, ha spiegato Carla Caciari, dopo che hanno fatto la loro ricomparsa anche in Umbria malattie come la poliomelite o la difterite e mentre il numero dei bambini che vengono vaccinati continua a decrescere, soprattutto entro i primi 24 mesi di vita. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda la soglia del 95% di bambini vaccinati per ottenere la cosiddetta immunità di popolazione. La nostra proposta di legge, ha detto Caciari, tutela la salute pubblica e anche quella di chi non può o non vuole vaccinarsi. La fase istruttoria della proposta di legge proseguirà con una specifica audizione che si terrà a Palazzo Cesaroni. Audizione in seconda commissione sulle proposte di modifica della legge sullo sfruttamento delle acque minerali e termali. Marco Paganini L'organismo consigliare dell'Assemblea Legislativa, preseduto da Eros Brega, ha incontrato i rappresentanti dei marchi Motette, Rocchetta, Nocera Umbra, San Gemini, oltre a quelli delle Terme Francescane e della Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese, per un'audizione sulle due proposte di legge a firma Smacchi, PD, Rometti, Socialisti e Liberati Carbonari, Movimento 5 Stelle, relativa al sistema dei canoni concessori per lo sfruttamento delle acque minerali e termali. Aprendo i lavori, i consiglieri Smacchi e Liberati hanno illustrato le relative iniziative legislative che, partendo da diverse visioni dell'ambito della commercializzazione delle acque, convergono nell'auspicio di una più favorevole redistribuzione dei canoni concessori in favore dei comuni su cui insistono le sorgenti. Gli interventi che hanno animato l'audizione hanno mostrato la condivisione dei relatori per l'ipotesi di incremento della quota aspettante ai comuni, affiancata dall'auspicio di una migliore e più condivisa progettualità in merito alla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali nelle zone di captazione e imbottigliamento delle acque. Dal dibattito è emersa anche la necessità di provvedimenti di sostegno al settore termale, fortemente legato ai flussi turistici e danneggiato dagli ultimi eventi sismi. La terza commissione alla Santa Maria della Misericordia per una audizione sulle criticità e proposte per il futuro dell'azienda ospedaliera di Perugia. Vediamo. L'azienda ospedaliera di Perugia, dal 2005 in poi, ha sempre conseguito il pieno equilibrio di gestione. Ha un bilancio annuo di 310 milioni di euro, di cui il 46% viene speso per il personale e il 53% per beni e servizi. Una delle sfide importanti del sistema sanitario regionale è di ragionare come un sistema holding. Ha ospicabile una maggiore partecipazione degli operatori sanitari nella predisposizione del nuovo piano sanitario regionale e quanto è emerso dall'audizione in terza commissione presieduta da Tilio Solinas, che si è svolta presso la sala convegni Creo dell'azienda ospedaliera di Perugia, propedeutica alla prossima discussione del nuovo piano sanitario regionale. È stato il direttore generale Emilio Duca ad illustrare ai commissari presenti un quadro analitico dell'azienda ospedaliera, al quale sono poi seguiti interventi di alcuni medici, direttori di struttura complessa. L'azienda ospedaliera dispone di circa 800 posti letto. Vengono trattati mediamente oltre i 40.000 ricoveri l'anno. I dati dell'ultimo quadriennio mostrano un trend incostante e leggera diminuzione e questo, ha detto Duca, rappresenta un indicatore particolarmente positivo. Il 10% dei ricoveri è di provenienza extra-regionale. Sostanzialmente si verifica un inappropriato utilizzo del pronto soccorso. Delle 62.000 persone, che vi ricorrono solamente il 14%, arriva con codice di gravità giallo e solo il 2% con codice rosso, massima gravità. Significa che l'84% è rappresentato da codici verdi, bassa gravità e bassa urgenza, e bianchi, zero gravità ed urgenza, i tempi medi di attesa. Per i codici rossi la procedura è immediata, per un codice giallo il tempo di attesa è di 9 minuti, per un codice verde 47 minuti, per un codice bianco 97. Per l'attività ambulatoriale, i cittadini che si recano negli ambulatori dell'ospedale, per visite, egografie ed altro, sono quasi 3 milioni e mezzo l'anno. Per quanto attiene i pagamenti ai fornitori, la fattura viene pagata entro 20 giorni. Con i voti favorevoli dei commissari della maggioranza, oltre a De Vincenzi, della lista Ricci Presidente, e con l'assenzione di Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, la terza commissione, presieduta da Tilio Solinas, ha dato l'assenso alla proroga di 30 giorni per la presentazione delle linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica in Umbria, anno scolastico 2017-2018, con esclusione delle istanze riguardanti l'offerta formativa. Proroga che nasce da una specifica richiesta del Presidente della provincia di Perugia, Nando Mismetti, legata soprattutto alle criticità oggettive prodotte dagli eventi sismici e trattata lo scorso 30 novembre dalla Conferenza di Servizio Permanente per l'attuazione del Decreto Legislativo 112 del 98. Si è svolto a Palazzo Cesaroni il convegno Calcio e Legalità, promosso e organizzato dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Vediamo. Calcio e Legalità, una scelta per la sicurezza e per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata. È questo il titolo del convegno organizzato e promosso dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria che si è svolto nella Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni a Perugia. Presenti all'iniziativa la Presidente dell'Assemblea Legislativa, Donatella Porzi, il sottosegretario all'interno, Giampiero Bocci, il magistrato e membro del Consiglio Superiore della Magistratura, Luca Palamara, Tullio Del Sette, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e i presidenti di Lazio e Perugia, Lotito e Santo Padre. Introducendo i lavori la Presidente Porzi, ha spiegato come l'Assemblea Legislativa abbia organizzato questo convegno per ribadire un impegno che sta caratterizzando l'attività della Presidenza, contribuire a diffondere la cultura della legalità in tutti gli ambiti della vita pubblica. Il calcio è uno sport meraviglioso che fa innamorare tanti giovani, ha detto, e sognare tante generazioni, ma che è appetibile per gli affari malavitosi. Per preservarlo è necessario lavorare sulla sensibilizzazione. Il sottosegretario Bocci ha centrato il suo intervento sul recente protocollo sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Federazione Gioco Calcio per prevenire i rischi di infiltrazioni nelle società di calcio professionistiche. Sicurezza negli stadi e prevenzione dai rischi di infiltrazioni di organizzazioni criminali, ha detto, sono due facce della stessa medaglia che servono per restituire al nostro paese un calcio bello e pulito. L'obiettivo è riportare finalmente le famiglie negli stadi. Il magistrato Luca Palamara ha sottolineato che appuntamenti come questo servono per parlare del rispetto delle regole nel mondo dello sport. È fondamentale agire sulla prevenzione. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emitenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.